Ultimo caricatore! Sto finendo le munizioni! Sono quasi a secco! Grosso calibro! Colpi per lanciatore! Medio calibro! Colpi per fucile a canna liscia! Piccolo calibro! Ultimo caricatore! Sto finendo le munizioni! Sono quasi a secco! Ricarico! Sono a secco! Ricarico! Cambio caricatore! Stai sparando a dei civili! Occhio a dove spari! Quelli sono civili! Ehi! Occhio a dove spari! Non sparare! Occhio! Siamo alleati! Smettila di spararmi! Mi attaccano! Sono sottotiro! Porca puttana! Ah! Bastardo! Contatto! Contatto! Colpi nemici! Contatto! Mi hanno colpito! Mi sparano! Mi stanno bersagliando! Cecchino! Occhio alla testa! Cecchino avvistato! Fate attenzione! Giù! C'è un cecchino! Bombardiere eliminato! Bombardiere eliminato! Carro nemico andato! Drone nemico andato! Cannoniera ostile distrutta! Elicottero nemico distrutto! Nemico a terra! Incenerito! Uno in meno! Versaglio a terra! Preso! Due a terra! Uno e due! Ne ho eliminati due! Sei colpiti! Ne ho uccisi quattro! Il loro Juggernaut è a terra! Beetle nemico distrutto! UAV di disturbo nemico distrutto! Bene! Torretta distrutta! Torretta scudo nemica distrutta! Cecchino eliminato! Bel colpo! Cecchino fuori gioco! Cecchino eliminato! E questo era l'ultimo! UAV nemico andato! Blindato pesante nemico colpito! Blindato leggero nemico distrutto! Wilson nemico eliminato! Un momento! Mi curo! Uso dei medicinali! Mi curo! Un attimo! Piazzo una mina anticarro! Uso una Claymore! Uso un'esca! Qui ci sono delle munizioni! Questa corazza vi proteggerà! Granate qui! Autori animazione! Qui! EMP attivo! Piazzo un esplosivo! Flashbang lanciata! Indossate le maschere! Granata partita! Granata lanciata! Lancio una Molotov! Razzo partito! Lancio un fumogeno! Uso una stimolante! Lancio una stordente! Lancio un lacrimogeno! Termite lanciata! Drone EMP in volo! Ricognizione attiva! Muoviamoci! Cassa di scorte! Qui! Segnale di inserimento attivo! Sistema trofi attivato! C4! EMP! Occhio! Flashbang! Gas! Attenzione! A riparo! A terra! Granata! Molotov! Ricognizione nemica! RPG! Semtex! A riparo! Semtex! Semtex su di me! Granata stordente! Termite! Ottimo! Può andare? Bel colpo! Che classe! Davvero notevole! Su andiamo! Fai attenzione! Muoviti! Stiamo perdendo tempo! Datti una mossa! Basta perdere tempo! Eccellente! Fantastico! Alla grande! Benissimo! Così si fa! Eccezionale! Fantastico cazzo! Semplicemente perfetto! Ottimo lavoro! Continua così! C'è mancato poco! C'è mancato un soffio! Per un pelo! Bastardo! Fuori dai piedi! Ma falla finita! Così impari! Resta giù! Fanculo! Tanti saluti! Va all'inferno! E muori! Hai sfidato la sorte! Ti copro le spalle! Ti ho salvato il culo! Occhi aperti! Mettavisci in soccorso! Ti copro! Ben fatto! Benissimo! Bene così! Si fa sul serio! Perfetto! Ti faccio a pezzi! Pronti a levare le tende? Fatevi sotto! Forza! Testa di cazzo! Preparati a prenderle! Fatti sotto! Provaci pure! Vediamo che sai fare! Divertiamoci un po'! Provaci pure! Idiota! Via! Via! Facciamo esplodere! Attenzione! Facciamo esplodere! Un altro! Ce n'è un altro qui! Ecco un e un altro! Ecco l'ultimo! Qui c'è l'ultimo! Ecco qua l'ultimo! Qui ho trovato delle informazioni! Ho trovato informazioni! Qui ci sono informazioni utili! E questo cos'è? C'è qualcosa! Qui ho trovato qualcosa! Capo! Qui sop! Rispondi! Sop a capo! Qui c'è qualcosa! Capo! Mi servono informazioni! Disinnesco riuscito! Disinnesco completato! Problema risolto! Dispositivo disinnescato! Abbiamo preso l'obiettivo! Dispositivo pronto! Via al timer! Obiettivo pronto! Via al tempo! Piazzamento in corso! Piazzo una carica! Posiziono una carica! Al punto di estrazione! Forza! All'estrazione! Muoviamoci! Stiamo aspettando al punto di estrazione! Presto! Estrazione riuscita! Siamo in volo! Il pacco è in volo! Estrazione perfetta! Sorveglio l'obiettivo! Obiettivo al sicuro! In difesa! Obiettivo al sicuro! In posizione! Copritemi! Sono sull'obiettivo! Mi occupo dell'obiettivo! Copritemi! Sono sull'obiettivo! Copritemi! Contatto con il pacco! Obiettivo al sicuro! L'obiettivo è nostro! Obiettivo in sicurezza! 10 secondi! 30 secondi! Manca un minuto! Siamo tutti nella zona sicura! Nella zona sicura! Subito! Dovremmo andare nella zona sicura! La zona sicura è lontana! Diamoci una mossa! Via libera! Libero! Via libera! Libero! Il tempo passa! Il tempo scorre! Timer partito! Obiettivo completato! In marcia! Qui è fatta! Andiamo! Qui abbiamo finito! Andiamo! Attenzione! Bersagli in arrivo! Nemici in arrivo! Bersaglio prioritario a terra! Bersaglio primario a terra! Bersaglio prioritario eliminato! Mani in alto! Subito! Alza quelle mani! Mani in alto! Ora! Il bersaglio si muove! Il bersaglio si sposta! Bersaglio in movimento! Bersaglio localizzato! Bersaglio individuato! Visuale sul bersaglio! Obiettivo localizzato! Visuale sull'obiettivo! Ho perso la visuale! Visuale persa! Troviamo il bersaglio! Arriva una consegna speciale! Contratto confermato! Pronto a tutto! Trasmettiamo qualche informazione! Prendiamo quella roba! Delle scorte sarebbero utili! Con altre scorte avremmo più possibilità! Stazione medica segnalata! C'è una stazione medica! Resisti! Qui c'è un'ambulanza! Qui c'è equipaggiamento letale extra! Altro equipaggiamento tattico! Qui! Grosso calibro! Qui! Colpi per lanciatore segnalati! Medio calibro! Qui! Colpi per fucile a canna liscia segnalati! Colpi di piccolo calibro! Qui! Accessorio! Qui! Mirino! Qui! Pallone di deposito! Pallone di deposito! Ricevuto! Est! Est! In alto! In alto! Livello 1! Livello 2! Livello 3! Livello 4! Livello 5! Laggiù! Laggiù! Nord! Nord! Nordest! Nordest! Nord-Ovest! Nord-Ovest! Sud! Sud! Sud-Est! Sud-Est! Sud-Ovest! Sud-Ovest! Ovest! Ovest! Per me? Serve a me! Mi farebbe comodo! Ci penso io! Ricevuto! Ci penso io! Ricevuto! È mio! Bombardiere! Vedo movimento! Vedo movimento! Abbattuto! Neutralizzato! Quello è fuori gioco! Uno in meno! Assegno! Ostile! Versaglio segnalato! Qui c'è un bersaglio! Ostile! Versaglio segnalato! Qui c'è un bersaglio! Versagli segnalati! Versagli segnalati! RPG! Cecchino! Tre bersagli individuati! Ci sono trappole nemiche! Trappole nemiche qui! Trappole nemiche individuate! Vedo due bersagli! Blindato pesante nemico! Blindato pesante nemico! Veicolo nemico! Veicolo nemico! Drone EMP nemico! Drone EMP nemico! Cassa vuota qui! Il nemico ha fatto scorta! Cassa vuota qui! Il nemico ha fatto scorta! Segnale di inserimento nemico individuato! C'è una maschera antigas! Maschera antigas! Ok! Ok! Confermato! Indico un contratto taglia! Indico un contratto contrabbando! Contratto indicato! Indico un contratto ricercato! Indico un contratto ricognizione! Contratto manomissione avvistato! Indico un contratto sciacallo! Indico un contratto rifornimento! Lancio aereo in arrivo! Lancio aereo in arrivo! Approvvigionamento segnalato! Approvvigionamento segnalato! Carro nemico! Carro nemico! Cannoniera nemica! Cannoniera nemica! Elicottero nemico! Elicottero nemico! Juggernaut nemico! Vito il nemico! RICOGNIZIONE NEMICA UAB DI DISTURBO NEMICO TORRETTA NEMICA TORRETTA SCUDO NEMICA TORRETTA SCUDO OSTILE WILSON NEMICO Sono dietro di te, ti seguo, ti copro RIPOSIZIONAMENTO IN MOVIMENTO MI MUOVO CAMBIO ZONA Mi muovo di qua CORRETE INDIETRO STATE INDIETRO PRESTO, PRESTO ZONA DI LANCIO SEGNALATA PRONTI ALLO SCHIERAMENTO ZONA DI LANCIO INDICATA STIAMO VICINI ZONA DI LANCIO INDIVIDUATA PREPARARSI QUELLO È UN BUON PUNTO PER LANCIARSI QUI C'È UNA BUONA ZONA D'ATTERRAGIO ATTERRIAMO QUI OCCHIO APERTI IL NEMICO È STATO QUI GIÀ SACCHEGGIATO OCCHIO ALL'ATTIVITÀ NEMICA IL POSTO È STATO RIPULITO ATTENZIONE A EVENTUALI MINACCE RAGRUPPARSI RAGRUPPIAMOCI QUI ADUNATO SUL MIO INDICATORE C'È UNA SCHIEDA DI ACCESSO MI SERVONO CORAZE MI SERVE UN'ARMA MI SERVE UN CASCO MI SERVONO COLPI DI GROSSO CALIBRO MI SERVONO COLPI PER LANCIATORE MI SERVONO CURE LE HO FINITE MI SERVONO COLPI DI MEDIO CALIBRO MI SERVONO COLPI PER FUCILE A CANNA LISCIA MI SERVONO COLPI DI PICCOLO CALIBRO OBIETTIVO CONTRATTO SEGNALATO OBIETTIVO CONTRATTO SEGNALATO DISPOSITIVO SEGNALATO DISPOSITIVO SEGNALATO QUI C'È UNA CORAZZA C'È UN POTENZIAMENTO DA CAMPO INDICO DELL'EQUIPAGGIAMENTO QUI CI SONO MEDICINALI EXTRA SCUDO ANTISOMMOSSA SEGNALATO BANCA APERTA PUNTO DI DEPOSITO CONFERMATO QUI C'È UN BEL GRUZZOLO QUI C'È PARECCHIO DENARO VENDITORE SEGNALATO STAZIONE DI ACQUISTO RICEVUTO OK RICEVUTO RICEVUTO OK RICEVUTO RICEVUTO ANNULLARE COME NON DETTO IGNORATE CAPITO FORTE E CHIARO TUTTO CHIARO CAPITO FORTE E CHIARO TUTTO CHIARO PRESTO MI SERVANO CURE AIUTATEMI MI STO DISSAGUANDO SONO A TERRA AIUTATEMI CONTINUA SONO TROPPO DEBOLE NON CE LA FACCIO LASCIAMI QUI LASCIAMI SONO SPACCIATO ARRIVO STO ARRIVANDO RESISTI RESISTI STO ARRIVANDO GRAZIE GRAZIE MILLA TI RINGRAZIO FUORI TUTTI FUORI TUTTI C'È UN ELICOTTERO DI DEPOSITO CHI GUIDA CI SERVE UN CONDUCENTE CHI SI METTE AL VOLANTE CHI GUIDA CI SERVE UN CONDUCENTE CHI SI METTE AL VOLANTE SERVE UN PILOTA SERVE UN PILOTA TRASPORTO FORTE E CHIARO IO MI METTO AL VOLANTE POSSO GUIDARE IO GUIDO IO IO MI METTO AL VOLANTE POSSO GUIDARE IO GUIDO IO CALIBRO 50 MIA VADO ALLA CALIBRO 50 USO LA CALIBRO 50 CALIBRO 50 MIA VADO ALLA CALIBRO 50 USO LA CALIBRO 50 CORAZZATO CORAZZATO INDIVIDUATO C'È UN BLINDATO PESANTE BLINDATO PESANTE SEGNALATO HO TROVATO UN ELICOTTERO ELICOTTERO SEGNALATO SEGNALO UN ELICOTTERO QUI C'È UN VEICOLO HO TROVATO UN VEICOLO VEICOLO SEGNALATO MI SERVE UN PASSaggio DAMMI UN PASSaggio DAMMI UN PASSaggio PILOTO IO PENDO I COMANDI MI METTO IO AI COMANDI PILOTO IO PENDO I COMANDI MI METTO IO AI COMANDI IO MI SIEDO DAVANTI POSTO PENOTATO IO MI SIEDO QUI IO MI SIEDO DAVANTI POSTO PENOTATO IO MI SIEDO QUI FUCILE D'ASSALTO TROVATO ARMA PERSONALIZZATA QUI FUCILE TATTICO QUI QUI C'È UN LANCIATORE MITRAGLIATRICE LEGGERA TROVATA COLTELLO TATTICO QUI QUI C'È UNA PISTOLA FUCILE A CANNA LISCIA SEGNALATO MITRAGLIETTA INDIVIDUATA FUCILE DI PRECISIONE QUI Hai la pelle dura Te la caverai Ti rimetto in sesto Non preoccuparti Ce la farai Andrà tutto bene Ci penso io Sopravvivrai Alleato a terra Aiutatelo Alleato a terra Soccorretelo Alleato a terra Qui Alleato ucciso Abbiamo una vittima Compagno ucciso Luce verde Procediamo Ci va in guerra Restiamo uniti Andiamo La coppia è vincente Uso il defibrillatore Diamoti una sistemata Torno in campo Marco l'inserimento secondario Levati di dosso Talliti di dosso Bastardo Mi hanno colpito Sono a terra Mi hanno beccato Sono a terra Curatemi Aiuto Mi hanno centrato A terra Sono a terra Pronto a muovermi Tutto a posto Di nuovo in pista Qui Soop Sono pronto Mectavish rapporto Diamoci da fare Pronto all'azione Vivo Vegeto E pronto Rieccomi Si torna in battaglia Ultimo caricatore Sto finendo le munizioni Sono quasi a secco Grosso calibro Colpi per lanciatore Medio calibro Colpi per fucile a canna liscia Piccolo calibro Ricarico Sono a secco Ricarico Cambio caricatore Stai sparando a dei civili Occhio a dove spari Quelli sono civili Ehi Occhio a dove spari Non sparare Occhio Siamo alleati Smettila di spararmi Mi attaccano Sono sottotiro Porca puttana Bastardo Contatto Contatto Colpi nemici Contatto Mi hanno colpito Mi sparano Mi stanno bersagliando Bombardiere eliminato Bombardiere eliminato Carro nemico andato Drone nemico andato Cannoniera ostile distrutta Elicottero nemico distrutto Nemico a terra Incenerito Uno in meno Bersaglio a terra Preso Due a terra Uno e due Ne ho eliminati due Sei colpiti Ne ho uccisi quattro Il loro Juggernaut è a terra Beetle nemico distrutto UAV di disturbo nemico distrutto Bene Torretta distrutta Torretta scudo nemica distrutta Cecchino eliminato Bel colpo Cecchino fuori gioco Cecchino eliminato E questo era l'ultimo UAV nemico andato Blindato pesante nemico colpito Blindato leggero nemico distrutto Wilson nemico eliminato Ricevuto Agli ordini Procedo Forte e chiaro Soap chiudo Un momento Mi curo Uso dei medicinali Mi curo Un attimo Piazzo una mina anticarro Uso una claymore Uso un esca Qui ci sono delle munizioni Questa corazza vi proteggerà Granate qui Autori animazione Qui EMP attivo Piazzone esplosivo Flashbang lanciata Indossate le maschere Granata partita Granata lanciata Via di qui Battene da qui Non se ne parla Lancio una molotov Razzo partito Lancio un fumogeno Uso una stimolante Lancio una stordente Lancio un lacrimogeno Termite lanciata Divento un'ombra Drone EMP in volo Ricognizione attiva Muoviamoci Cassa di scorte Qui Segnale di inserimento attivo Sistema trofi attivato C4 EMP Occhio Flashbang Gas Attenzione A riparo A terra Granata Molotov Ricognizione nemica RPG Semtex A riparo Semtex Semtex su di me Granata stordente Termite Ottimo Può andare Bel colpo Che classe Davvero notevole Su andiamo Fai attenzione Muoviti Stiamo perdendo tempo Datti una mossa Basta perdere tempo No Merda Questa non ci voleva Eccellente Fantastico Alla grande Benissimo Così si fa Eccezionale Fantastico cazzo Semplicemente perfetto Ottimo lavoro Continua così C'è mancato poco C'è mancato un soffio Per un pelo Bastardo Fuori dai piedi Ma falla finita Così impari Resta giù Fanculo Tanti saluti Va all'inferno E muori Hai sfidato la sorte Grande In mezzo agli occhi Centrato Colpito in pieno Cenere alla cenere Porca puttana Prendi questo Testa di cazzo Ci hai provato Buonanotte C'è mancato poco Ride bene Chi ride ultimo È finita Dovevi andartene Finché eri in tempo Le tue ultime parole Hai fatto un grosso errore Ti copro le spalle Ti ho salvato il culo Occhi aperti Mettavisci in soccorso Ti copro Calma E sangue freddo Concentrati Testa sulle spalle Sono con le spalle al muro Mi bloccano Sono sottotiro Mi sparano addosso Mi stanno sparando Via A terra Attenzione Occhio Porca puttana Ben fatto Benissimo Bene così Si fa sul serio Perfetto Ti faccio a pezzi Pronti a levare le tende Fatevi sotto Forza Testa di cazzo Preparati a prenderle Fatti sotto Provaci pure Vediamo che sai fare Divertiamoci un po' Provaci pure Idiota Codici inseriti Attivazione Ci serve un lancio aereo Posizione confermata Richiedo lancio aereo Punto indicato per il lancio aereo Versaglio indicato Procedere Fate fuoco Avanti Versaglio segnalato Colpite Posizione confermata Attaccare Datemi supporto aereo Fuoco sulla posizione indicata È ora di fare danno Distruzione in arrivo È ora di regolare i conti Serve una ricognizione sulla posizione indicata Serve una ricognizione Ricognizione alleata attiva Serve un UAV di disturbo Torretta robot in campo Torretta scudo online Wilson in campo Via Via Facciamo esplodere Attenzione Facciamo esplodere Un altro Ce n'è un altro qui Eccone un altro Ecco l'ultimo Qui c'è l'ultimo Non è niente Inutile Niente di niente Qui ho trovato delle informazioni Ho trovato informazioni Qui ci sono informazioni utili E questo cos'è? C'è qualcosa Qui ho trovato qualcosa Capo Qui sop Rispondi Sop a capo Qui c'è qualcosa Capo Mi servono informazioni Disinnesco riuscito Disinnesco completato Problema risolto Dispositivo disinnescato Abbiamo preso l'obiettivo Dispositivo pronto Via al timer Obiettivo pronto Via al tempo Piazzamento in corso Piazzo una carica Posiziono una carica Al punto di estrazione Forza All'estrazione Muoviamoci Stiamo aspettando Al punto di estrazione Presto Estrazione riuscita Siamo in volo Il pacco è in volo Estrazione perfetta Sorveglio l'obiettivo Obiettivo al sicuro In difesa Obiettivo al sicuro In posizione Stai giù Seguimi Fermi Copritemi Sono sull'obiettivo Mi occupo dell'obiettivo Copritemi Sono sull'obiettivo Copritemi Via Muoviti Contatto con il pacco Obiettivo al sicuro L'obiettivo è nostro Obiettivo in sicurezza 10 secondi 30 secondi Manca un minuto Siamo tutti nella zona sicura Nella zona sicura Subito Dovremmo andare nella zona sicura La zona sicura è lontana Diamoci una mossa Via libera Libero Il tempo passa Il tempo scorre Timer partito Obiettivo completato In marcia Qui è fatta Andiamo Qui abbiamo finito Andiamo Attenzione Versagli in arrivo Nemici in arrivo Altri bersagli in avvicinamento Versaglio prioritario a terra Versaglio primario a terra Versaglio prioritario eliminato Mani in alto Subito Alza quelle mani Mani in alto Ora Il bersaglio si muove Il bersaglio si sposta Versaglio in movimento Versaglio localizzato Versaglio individuato Visuale sul bersaglio Obiettivo localizzato Visuale sull'obiettivo Ho perso la visuale Visuale persa Troviamo il bersaglio Arriva una consegna speciale Contratto confermato Pronto a tutto Trasmettiamo qualche informazione Prendiamo quella roba Delle scorte sarebbero utili Con altre scorte avremmo più possibilità Stazione medica segnalata C'è una stazione medica Resisti Qui c'è un'ambulanza Qui c'è equipaggiamento letale extra Altro equipaggiamento tattico Qui Grosso calibro Qui Colpi per lanciatore segnalati Medio calibro Qui Colpi per fucile a canna liscia segnalati Colpi di piccolo calibro Qui Accessorio Qui Mirino Qui Pallone di deposito Qui Pallone di deposito Ricevuto Est In alto Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4 Livello 5 Laggiù Nord Nord-Est Nord-Ovest Sud Sud-Est Sud-Ovest Ovest Per me Serve a me Mi farebbe comodo Ci penso io Ricevuto Ci penso io Ricevuto È mio Bombardiere Vedo movimento Abbattuto Neutralizzato Quello è fuori gioco Uno in meno Assegno Ostile Bersaglio segnalato Qui c'è un bersaglio Bersagli segnalati RPG Cecchino Tre bersagli individuati Ci sono trappole nemiche Trappole nemiche qui Trappole nemiche individuate Vedo due bersagli Blindato pesante nemico Veicolo nemico Drone EMP nemico Cassa vuota qui Il nemico ha fatto scorta Segnale di inserimento nemico individuato C'è una maschera antigas Maschera antigas Ok ok confermato Indico un contratto taglia Indico un contratto contrabbando Contratto indicato Indico un contratto ricercato Indico un contratto ricognizione Contratto manomissione avvistato Indico un contratto sciacallo Indico un contratto rifornimento Lancio aereo in arrivo Approvvigionamento segnalato Carro nemico Cannoniera nemica Elicottero nemico Juggernaut nemico Vito nemico Ricognizione nemica UAV di disturbo nemico Torretta nemica Torretta scudo nemica Torretta scudo ostile Wilson nemico Sono dietro di te Ti seguo Ti copro Riposizionamento In movimento Mi muovo Cambio zona Mi muovo di qua Correte Indietro State indietro Presto presto Zona di lancio segnalata Pronti allo schieramento Zona di lancio indicata Stiamo vicini Zona di lancio individuata Prepararsi Quello è un buon punto per lanciarsi Qui c'è una buona zona d'atterraggio Atterriamo qui Occhi aperti Il nemico è stato qui Già saccheggiato Occhio all'attività nemica Il posto è stato ripulito Attenzione a eventuali minacce Raggrupparsi Raggruppiamoci qui Adunato sul mio indicatore C'è una scheda di accesso Mi servono corazze Mi serve un'arma Mi serve un casco Mi servono colpi di grosso calibro Mi servono colpi per lanciatore Mi servono cure Le ho finite Mi servono colpi di medio calibro Mi servono colpi per fucile a canna liscia Mi servono colpi di piccolo calibro Obiettivo contratto segnalato Dispositivo segnalato Qui c'è una corazza C'è un potenziamento da campo Indico dell'equipaggiamento Qui ci sono medicinali extra Scudo antisommossa segnalato Banca aperta Punto di deposito confermato Qui c'è un bel gruzzolo Qui c'è parecchio denaro Venditore segnalato Stazione di acquisto Ricevuto Ok Ricevuto Ricevuto Annullare Come non detto Ignorate Capito Forte e chiaro Tutto chiaro Presto Mi servono cure Aiutatemi Mi sto disanguando Sono a terra Aiutatemi Continua Sono troppo debole Non ce la faccio Lasciami qui Lasciami Sono spacciato Arrivo Sto arrivando Resisti Resisti Sto arrivando Grazie Grazie mille Ti ringrazio Fuori tutti C'è un elicottero di deposito Chi guida Ci serve un conducente Chi si mette al volante Serve un pilota Trasporto Forte e chiaro Io mi metto al volante Posso guidare io Guido io Calibro 50 mia Vado alla calibro 50 Uso la calibro 50 Corazzato individuato C'è un blindato pesante Blindato pesante segnalato Ho trovato un elicottero Elicottero segnalato Segnalo un elicottero Qui c'è un veicolo Ho trovato un veicolo Veicolo segnalato Mi serve un passaggio Dammi un passaggio Dammi un passaggio Piloto io Prendo i comandi Mi metto io ai comandi Io mi siedo davanti Posto prenotato Io mi siedo qui Fucile d'assalto trovato Arma personalizzata qui Fucile tattico qui Qui c'è un lanciatore Mitragliatrice leggera trovata Coltello tattico qui Qui c'è una pistola Fucile a canna liscia segnalato Mitraglietta individuata Fucile di precisione qui Hai la pelle dura Te la caverai Ti rimetto in sesto Non preoccuparti Ce la farai Andrà tutto bene Ci penso io Sopravvivrai Alleato a terra Aiutatelo Alleato a terra Soccorretelo Alleato a terra Qui Alleato ucciso Abbiamo una vittima Compagno ucciso Luce verde Procediamo Si va in guerra Restiamo uniti Andiamo Ultimo in campo Pare che tocchi a me Sono l'ultimo La coppia vincente Uso il defibrillatore Diamoti una sistemata Torno in campo Marco l'inserimento secondario È peggio di quello che ho Ho di meglio Roba di seconda categoria Devo fare spazio Mi serve un po' di spazio Non ho più spazio Levati di dosso Talliti di dosso Bastardo Mi hanno colpito Sono a terra Mi hanno beccato Sono a terra Curatemi Aiuto Mi hanno centrato A terra Sono a terra Non ce la faccio Riprenditi Soap Trova qualche medicinale Resisti Non mollare adesso Mi sento un po' meglio Non arrenderti Soap Non fermarti Continua soldato Resisti Soap Resisti Pronto a muovermi Tutto a posto Di nuovo in pista Qui Soap Sono pronto McTavish a rapporto Diamoci da fare Pronto all'azione Vivo Vegeto E pronto Rieccomi Si torna in battaglia Soprish a rapporto